Da questa mattina cominciano i lavori di rifacimento delle strisce pedonali in città, attività che era stata anticipata qualche giorno fa dall'assessore al ramo Felice Dierna. E così, a partire da oggi, i lavoratori stanno provvedendo a ridipingere le strisce in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole. È stato deciso intanto un cronoprogramma attraverso cui viene stabilito un ordine ben preciso degli interventi e si inizia proprio oggi dalla via Napoleone-Colaianni, con gli attraversamenti pedonali presenti davanti la scuola Leonardo Sciascia. Nei prossimi giorni si procederà nelle altre zone della città per cercare di completare i lavori prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Si passerà dunque alla via Turati con la scuola Don Milani, via Don Minzoni e a seguire gli attraversamenti in prossimità degli altri istituti cittadini, come ad esempio la scuola Santa Maria Mazzarello in via Borremans o ancora Piazza Marti di Dungheria, via Catania e via Le Sicilia. Verranno effettuati interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale anche in altri punti di Caltanissetta, in particolare negli attraversamenti pedonali nelle vicinanze degli incroci. Piazza Marti di Dungheria